e come già vi ho annunciato più volte abbiamo il piacere di ospitare con noi collegata via Skype la nuova coordinatrice della federazione del forum internazionale di azione cattolica siamo abituati anche a dire federazioni di queste importanti associazioni insomma una donna non è la prima volta la guida di un'associazione fondamentale nella vita della chiesa e del mondo intero benvenuta grazie a lei di aver accettato e naturalmente questo non lo tradurremo ringrazio subito anche la nostra Claudia di voce di padre Pio che poi sentirete nella traduzione simultanea io vorrei cominciare oltre che dalle congratulazioni e dagli auguri lei è una donna che anche nella scelta professionale denota scelte di grandi responsabilità perché si dona agli altri nel settore della salute per quale motivo lei da che cosa è motivata? ha sempre vissuto questo come una chiamata del Signore da questa esperienza profonda che ha vissuto ha sempre avuto questo desiderio di trasmettere questa stessa esperienza agli altri adesso grazie all'azione cattolica può contribuire nell'annuncio del Vangelo in maniera più diretta e si sente come uno strumento del Signore anche per aiutare gli altri a crescere nella fede e può illustrarci in maniera breve ma esaustiva gli obiettivi del prossimo quadriennio? un obiettivo è continuare a camminare insieme offrendo questo servizio dell'azione cattolica per le parrocchie e rispondere quindi alla chiamata del Papa coinvolgendo le famiglie, i bambini, i giovani il nostro lavoro sarà incentrato sul Regno di Dio nel mondo e ci metteremo all'ascolto degli altri portando avanti questo lavoro e questo dialogo per la pace attraverso la realtà di Manos Unidas lei ha conosciuto molto bene la questione dei migranti può indicarci due vie percorribili dal punto di vista del lavoro dei volontari ma anche dell'opera delle istituzioni? Grazie all'azione cattolica ho potuto conoscere anche la realtà di Manos Unidas che sono due istituzioni diverse, distinte tra loro in Spagna però ho potuto conoscere la dedizione di tanti volontari ed è importante chiedersi, interrogarsi sulla loro situazione e dare voce a chi soffre e a chi riceve delle ingiustizie Il ruolo di Manos Unidas è migliorare le condizioni di vita per non abbandonare la propria terra quindi l'obiettivo è cercare una qualità migliore nella propria terra perché queste persone non siano costrette ad abbandonarla e adesso parliamo anche della questione femminile se lei ritiene che ci sia uno specifico ruolo Il programma è che le donne e gli uomini lavorino insieme ognuno secondo le proprie capacità, secondo i propri doni e l'obiettivo del primo annunzio è che tutti dobbiamo ritrovarci con Gesù Cristo sempre mettendo a disposizione i nostri talenti, le nostre capacità L'ultima domanda riguarda la GMG di Lisbona Quali sono le vostre aspettative? I giovani hanno un grande desiderio di condividere dopo questi anni della pandemia e quindi sarà un momento di felicità, di speranza e che porterà sicuramente frutti nelle proprie diocesi I giovani dell'Azione Cattolica hanno una grande voglia di partecipare e sicuramente in Spagna il livello di partecipazione sta superando le aspettative e che questo possa portare ad essere veramente sale e luce per il mondo Grazie, buon lavoro, grazie davvero Grazie, grazie e continuiamo a camminare insieme Avete sentito dunque quanto è semplice capire che ci sono persone che si dedicano agli altri in una maniera così trasparente, così piena di passione ma anche appunto con la necessità che non solo i giovani ma tutti noi collaboriamo in questa opera Grazie